Salve a tutti, bentrovati nel canale, benvenuti in questo video post prima giornata degli ottavi di finale del Roland Garros 2024, ottavi di finale che hanno visto impegnati in questa domenica, in questa seconda domenica del torneo, la terza come saprete sarà quella dedicata alla finale maschile, tre azzurri impegnati in tabellone, vittoria per Sinner e ne parleremo e sconfitte per Arnaldi e Cocciaretto. Prima di analizzare il tutto vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare like al video, ad attivare la campanella per le notifiche, ad andare sul sito del Fantatennis www.fantatennis.net per partecipare al gioco a premi del canale, per aumentare di iscritti nel canale e nel gioco del canale. Vi ricordo, è vero che la stagione è inoltrata, ma sia Wimbledon che gli Open degli Stati Uniti daranno a chi fa meglio la possibilità di andare alle Finals e quindi di vincere un premio, quindi non è ancora troppo tardi per poter iniziare a partecipare a un gioco che secondo me è anche divertente che c'è una bella community nel gruppo Telegram, quindi unitevi, unitevi, unitevi e soprattutto iscrivetevi al canale, troppi di voi guardano i video senza essere iscritti e qualche iscrizione in più sarebbe da sprone per continuare a fare il meglio possibile, per raccontarvi quelle che sono state le giornate di tennis. Allora, partiamo dagli sconfitti, perché poi parleremo di Sinner, però partiamo prima dagli sconfitti, partiamo per correttezza, andiamo in ordine di apparizione, almeno non facciamo torto né ad Arnaldi né alla Cocciaretto, il primo a scendere in campo è stato Matteo Arnaldi che ha retto benissimo per un set e nove decimi del secondo set, purtroppo dopo aver vinto bene il primo set, dopo essere stato avanti di un break nel secondo, si è fatto breccare nel momento chiave quando è andato a servire per il set, l'occasione mancata ha ovviamente girato la partita a favore del Greco che poi ha vinto il secondo set, non ha avuto nessun tipo di problema. Altro calo fisico, ma ancora Matteo non è abituato a queste partite 3 su 5, quindi un calo fisico un pochino meno preoccupante di quello che abbiamo visto ieri per Musetti che questo tipo di partite le fa da tre anni e che non è nuovo a calare al quinto set, quindi situazione un po' diversa perché qualcuno ha detto come Musetti, la situazione è un po' diversa, Arnaldi si affaccia ora al circuito e non è che abbia giocato troppe partite slam di Calinetti, di Musetti al quinto, purtroppo ne abbiamo visti abbastanza recentemente anche all'Open d'Australia. Che dire? Bene perché tutto sommato pensare che Arnaldi potesse vincere un set contro il Sizzipas era un pensiero un pochino ottimistico, malino per tutto il resto, nel complesso però Arnaldi ha fatto un ottimo torneo, quindi si può essere soddisfatti come si può essere soddisfatti del torneo di Musetti, intendiamoci, Musetti avendo in quello slot Djokovic più di così non poteva arrivare, Arnaldi ha fatto un passo in più, ma tra avere in uno slam Djokovic e avere in uno slam Rubev sostanzialmente cambia il mondo e quindi tutto sommato gli italiani che hanno raggiunto il terzo turno, ottavi, bene, bene, bene anche la gocciaretta nonostante la stesa che ha preso dalla Goff, partita che non doveva esserci e che non c'è stata, 6-1-6-2, l'americana è un'altra cilindrata, un altro passo e quindi poco da fare quando trovi i più forti a questo gioco, quando trovi i più forti che giocano bene difficilmente hai la possibilità di uscirne e da questa cosa se ne accorta in serata anche il buon Muthè che ha, come temevo perché io vi avevo detto nei video precedenti che non temevo la sconfitta di Sinner, temevo il fatto che il pubblico francese, l'idea di giocare un terzo turno a Roland Garros sul campo principale con il pubblico a favore potesse portare il francese a dare il meglio di sé e quindi a poter vincere un set e questa mia previsione che non era nefasta perché poi avevo detto Massimo può vincere un set ed effettivamente si è spinto anche oltre perché è andato 7 break avanti ma poi la partita sul 6-2-1-0 per Muthè la partita è praticamente finita, Sinner ha preso le misure e non c'è più stata partita da quel momento lì, la partita è finita 6-2-6-2-6-1 quindi insomma capite da voi che il sacro fuoco che ha avuto Muthè nella prima ora si è poi spento e la partita si è messa come si doveva mettere però ecco affrontare un francese a Roland Garros soprattutto un terzo turno soprattutto l'ultimo francese quindi il tifo giustamente il tifo appassionato dei transalpini che non volevano perdere il loro ultimo giocatore ha un po' inciso in maniera positiva e in maniera negativa per Musetti sulle prestazioni del primo set e gli slam sono lunghi, io ho ricevuto messaggi a fine primo set visto Musetti, hai visto Sinner, hai visto Sinner, hai visto Sinner e a tutti ho risposto ragazzi è lunga, Sinner ci ha abituato a rimontarne due di set contro Medvedev, figuriamoci se il problema è un set perso tra l'altro male perché quindi non è neanche da dire che l'hai perso in volata, hai perso sprecando energie, hai perso avendo rimpianti, no no, Muthè ha strameritato di vincere il primo set, lo ha vinto e poi la partita è girata quindi è andata come poteva essere prevedibile, poteva anche finire onestamente se Sinner fosse entrato quadrato in campo poteva finire 3-0 però insomma un set al padrone di casa a Roland Garros con il pubblico che spinge per far sì che ci sia partita glielo possiamo concedere, poi Sinner ha cominciato a fare il Sinner, Muthè è inevitabilmente calato e come ho detto la partita è finita 2-6, 6-6, 3-6, 6-2, 6-1 con un doppio fallo con un fallo di piede in fondo che battendo da sotto che ben sintetizza lo stato d'animo del tenista francese a fine quarto set. Le altre partite, partiamo dal tabellone maschile che non ha riservato troppe sorprese nel senso che Alcaraz ha vinto facile contro Alias Sim come era ampiamente prevedibile, Dimitrov ha battuto Urkac in quella che è stata una delle partite che doveva essere una delle partite più incerte, in realtà è finita 3-0 nel tabellone femminile vittoria tranquilla per Vondrusov, vittoria tranquilla per Svyontek, purtroppo vittoria tranquilla per Goff e vittoria tranquilla per Jaber, quindi le favorite, diciamo che oggi prendere i favoriti era abbastanza semplice, non è sempre così nel tennis ma oggi il fattore classifica e il fattore forza ha indubbiamente inciso anche il fattore adattabilità della superficie. Domani, o meglio domani, tra poche ore, tra poche ore si giocano gli altri 8 ottavi di finale, 4 maschili e 4 femminili, dove si parte con, per quanto riguarda il maschile, si parte con un interessantissimo Deminaur Medvedev, partita che io Medvedev non l'ho visto benissimo e quindi do più chance a Deminaur di quante ne ne diano i bookmakers, secondo me è una partita aperta, come secondo me è una partita aperta la partita tra Djokovic e Cerundolo, bisognerà vedere se Cerundolo saprà entrare in quelle crepe che sicuramente la partita di Musetti ha aperto nel fisico di Djokovic, questa sarà una cosa importante, Djokovic la deve vincere in tre perché se la partita si allunga l'argentino più si allunga e più diventa favorito. Rude favorito contro Fritz e secondo me la quota del giorno potrebbe essere Rune che batte uno Zerev che non è proprio al top, si è salvato con Grigspor, io dico PGR per grazia ricevuta, però non è lo Zerev di Roma, è uno Zerev che qualcosa in più concede e quindi può anche perdere con Rune, certo Rune deve fare una partita migliore di quella che stava perdendo contro Cobolli. Paolini favorita contro la Avanesian, quindi teoricamente dovremmo averci un giocatore o una giocatrice nei quarti che sarebbe un'impresa abbastanza importante, Ribachina favorita sulla Svitolina, Sabalenka ovviamente favorita sulla Navarro e Andreva favorita sulla Traceva. Non credo di aver detto nulla che non sia scontato ma secondo me come oggi i favoriti hanno vinto tutti anche domani, anche tra poche ore, scusate l'oggi ma riferendomi alle partite della domenica mi viene da dire oggi quando in realtà è già lunedì quindi dovrei dire ieri e le partite e i favoriti sono quelli di oggi, scusate di questo lapsus. Dicevo che le partite che si giocheranno tra poche ore poco potranno scappare da questi favoriti, l'unico favorito che rischia di perdere è Zerev per la tipologia di avversario che ha, ma ripeto Lune deve fare la sua grande partita altrimenti il dislivello secondo me è abbastanza alto. Io ho detto questo e ringraziandovi ovviamente per il raggiungimento dei 1200 iscritti, augurandovi un buon lunedì e quindi una buona settimana, una buona settimana che speriamo ci accompagni con gli italiani fino a domenica. Vi saluto, vi auguro una buona notte per chi vede il video quando lo pubblicherò a notte fonda, un buongiorno e davvero una strepitosa settimana per chi vede il video da stamattina. e quindi grazie a tutti, buon tennis a tutti e buon cinema a tutti. Ciao!